Hi-Tech Taurus è una tastiera con qualità uniche. Il body in metallo è lavorato per imprimere un effetto trama a linee orizzontali. La cura nella progettazione è visibile dal design nella parte superiore e nei dettagli dei tasti, incisi con laser. Anche il cavo di tipo USB, placato in oro, mostra una cura certosina. La tastiera, nonostante sia a membrana, regala una sensazione di precisione simile alle tastiere meccaniche, senza l'inconveniente del rumore. Ogni tasto presenta uno switch di plastica, che trasmetterà alla pressione l'input alla membrana posta all'interno del body. Battere sui tasti creerà un feedback sonoro leggero, che unito al comfort della scrittura, renderà la scrittura molto piacevole. Anche in gaming si farà apprezzare, grazie alla funzionante ghosting 19 tasti e dagli shortcut per il blocco dei tasti Windows. La retroilluminazione è settabile in tre diversi colori, rosso, verde e giallo, e tre modalità di intensità ed effetti. È precisa e non estesa. Si limita infatti ai singoli tasti, senza propagarsi al di sotto. Di notte non sarete disturbati da fonti luce esterne al monitor. Il corpo in metallo, oltre a regalare una resistenza ed un'aderenza alla scrivania fuori dal comune, può essere utilizzato agevolmente con uno stand, ad esempio nelle postazioni di editing audio o durante i lavori di progettazione come su AutoCAD. In qualsiasi contesto la si metta, questa tastiera regala un utilizzo confortevole e non ci sono motivi per scossegnarne l'acquisto. Grazie. 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 Grazie.